Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Faccio il secondo video di questa miniserie di due, dove vi avevo fatto vedere i regali che io e mia moglie siamo fatti per Natale e colgo l'occasione per fare, non una top 5 perché non c'è migliore o peggiore, vi do 5 consigli appunto su 5 giochi da acquistare e regalarvi per Natale fra i più belli assolutamente che noi abbiamo in casa. Quindi non vi parlerò di giochi che non abbiamo, ma ve li farò direttamente vedere con la scatola giochi che nel 90% dei casi ho già recensito sul canale. Quindi comunque vi do qualche consiglio per l'acquisto, visto che siamo in periodo natalizio e magari c'è qualche bello sconto, Black Friday a parte, andate insomma un pochino a vedere e poi vi lascio tutti i link. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Come detto nell'anticipazione, non vi faccio una classifica perché non c'è, se no uno potrebbe dire, parti dal quinto che è il più brutto, aspetto di vedere il primo. No, 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 sono tutti quanti a pari merito, li metto un po' in un ordine come vengono a me. Il primo che vi ho già fatto vedere nel video precedente e che vi voglio consigliare è Necromunda Dark Apricing, in questa bella scatola che dovrebbe venire intorno ai 220 euro e non è tradotta in italiano, è soltanto in inglese. Questo Necromunda, perché ve lo sto consigliando rispetto a tanti altri giochi della GV? Perché è una scatola che secondo me conviene da morire. Ora, il costo è decisamente alto, perché il costo, insomma, ve l'ho detto, sull'ordine dei 200 euro, la trovate anche a 210, cose del genere. Però il contenuto che c'è dentro vale molto di più di quello che vi chiedono appunto come spesa. Perché ci sono due, mi viene da chiamare di Kill Team alla fin fine, comunque due bande belle grosse, si parla addirittura di 26 miniature, che già quelle fanno perlomeno un terzo del valore della scatola, e poi c'è uno scenario dentro che voi non avete idea, ve lo farò vedere quanto prima, ve lo giuro, ve l'ho promesso, c'è uno scenario dentro che prende quasi tutto questo tavolo qui dell'IKEA. È veramente immenso, fatto bene, bellissimo, e per il contenuto che trovate, poi per misuratori, da di tutto, per il contenuto che trovate qui dentro, secondo me, si sfora anche 300 euro, perché non è che vi ci hanno messo una torre, non è che vi ci hanno messo un muretto, anche delle tubature come su Conquest. Qui veramente c'è uno scenario intero che qualcosa di equiparabile a questo è lo scenario di Conquest, che è Scenedicola, Warhammer Conquest, però, tanto nel frattempo c'è Morgana che gira per qui, una volta finita tutta quanta la collezione da 60 numeri. È, ragazzi, immenso. Quindi, se a livello di giochi di Games Workshop vi volete fare un bel regalo e lo trovate ancora, sì, è vero, non costa poco, però, ragazzi, è una scatola unica e che fra non molto andrà fuori produzione, quindi non si troverà più da collezione. Quindi, Necromunda Dark Apricing, ragazzi, assolutamente lo comprate, magari ci buttate nel mezzo, nel tempo, qualche altra banda con gli amici, magari pagata a metà, ci avete uno scenario che lo levate e ci rifate qualsiasi gioco del mondo. Bellissimo. Se cercate qualcosa di veloce da giocare anche con i vostri figli, bambini, ma alla fin fine non ha età, lo potete giocare anche fra gente della mia età, della quarantina, perché è veramente uno spettacolo. Ragazzi, Fiabi di Stoffa è uno dei giochi che ci hanno fatto divertire di più ultimamente, insieme a Mice & Mystics. Non ve lo nascondo, però questo di più, perché questo è un gioco narrativo. È una specie di gioco da tavolo, board game, fuso, ha un libro game ed è veramente uno spettacolo assurdo e c'è anche una bella rigiocabilità, perché per quanto la storia è quella, se prendete una strada rispetto ad un'altra, magari andate a leggere un altro capitolo. Vi ricordateci, ho fatto anche il video e un gameplay, insieme a mia moglie, e ce ne vogliamo fare altri. È veramente divertentissimo, ha uno sbotto di miniatura, una qualità bella, che se siete magari anche amanti della pittura vi ci divertirete da morire a pitturarle, ed è bellino perché è avvincente come storia, cioè è divertente, siete in un reame onirico nei sogni della bambina che fate il possibile per salvarla da queste creature che poi la vogliono rapire, ricorda un po' anche le introduzioni di Labyrinth, se vi ricordate. Ed è molto, 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 molto interessante perché è un gioco che si intavola facilmente e diverte tutti, grandi e piccini, non ha età. Questo è il classico gioco che se ci fate giocare dei ragazzini si diventa andare a morire, se ci fate giocare degli adulti tornano ragazzini. Quindi è veramente uno dei prodotti più consigliati e date retta se vi volete divertire e fare un gioco unico nel suo genere, fiabe di stoffa è uno in assoluto dei migliori. Consigliatissimo. Arkham Horror, in questa, se non erro, quarta, terza o quarta, no, forse quarta edizione della Fantasy Flight Games, tradotto e localizzato in Italia dall'Asmo d'Italia, che tra l'altro ringrazio per averci mandato, anche questo è uno spettacolo. Sicer, perché vi ho fatto vedere questo rispetto a tanti altri giochi di Lovecraft? Perché poi a parte c'è Deep Madness che stanno per ristampare, terza ristampa nel 2021, perché vende da morire e fanno bene a rifarlo, o anche rispetto a tanti altri giochi in questa ambientazione qui, Miskatonic o altri. Perché vi ho fatto vedere Parkham Horror? Perché, secondo me, fra tutti i giochi che ho provato a ambientazione appunto di Cthulhu, miti di Cthulhu, quindi racconti di Lovecraft, ci sarebbe anche Death May Die, che vi vogliono consigliare, infatti vi volevo consigliare quello prima di Arkham Horror, però sono giochi un po' troppo lunghi, prolissi, cerco anche di, visto che si va sotto Natale, e Natale anche cercare di stare un po' insieme, magari l'ultimo dell'anno, cerco di darvi consigli sui giochi più veloci da intavolare e cose del genere. Allora, a parte Warhammer, Necromunda, che è un wargame, quindi ci vuole un po' più di tempo, però cerco di darvi anche giochi veloci che si intavolano bene e ci si fa serata insieme. E Arkham Horror è il gioco, secondo me, perfetto in ambientazione Lovecraft, che poi l'avete visto, l'ho già recensito, andate a cercare sul canale, c'è la mappa modulare da costruire a seconda della missione che avete scelto, muovete le vostre pedine, le azioni che potete fare sono quelle, ammazzate i mostri, risolvete i misteri e chiudete i portali, quindi nel 90% dei casi la missione da fare è quella lì. È un gioco molto veloce, ma è un gioco talmente tanto evocativo e fatto bene che ti ci cala nei miti appunto di Cthulhu, la dormiente di Rayleigh e tutto quanto, quindi proprio respirate Lovecraft a pieni polmoni e questo, secondo me, è uno dei giochi più veloci e che proprio vi ci calano di osì di testa, vi ci insuppano dentro nell'ambientazione e ne rimarrete veramente colpiti e innamorati. È veramente, veramente consigliatissimo. Talisman, che ragazzi, con o senza espansioni, e io da amico, da amico, vi consiglio di prendere, ma quelle grandi e quelle piccole, magari il mietitore, passateci anche sopra, le prendete opzionalmente, ma Talisman merita di essere comprato con tutte le espansioni, quindi che lo prendiate originale o, cioè nel senso, o usato, cercate di prenderlo in un bundle con tutte le espansioni perché ragazzi, Talisman è l'esperienza fantasy perfetta, per certi versi, è strano detto da me, anche più di Iroqueste, perché Iroqueste è l'esplorazione di un dungeon. Questo, con tutte le espansioni, diventa l'esplorazione di una mappa, l'esplorazione delle montagne, l'esplorazione delle catacombe, l'esplorazione del dungeon, cioè tutto. Talisman è l'esperienza fantasy completa ed è partendo come idea, che poi è offensivo, ma a livello di partenza è il gioco dell'oca, quindi si impara facilmente, tiri un dado, il risultato, dove vai? Senza orario o senza anti-orario? Leggo la casella, cosa è successo? combatto il mostro che c'è, cerco di prendere i vari pezzi della reliquia e del Talisman, arrivo a centro mappa, distruggo la maledizione e distruggo tutti gli altri player. Cioè è anche facilissimo da apprendere. È un gioco veramente facile, i ragazzi è uno spettacolo assurdo, secondo me questo veramente lo intavoli bene da tutte le parti e, come ho consigliato nel video precedente, se riuscite ad unirlo anche con Relic, che è la versione Warhammer 40.000, va benissimo. Però Relic è più di nicchia, non è per tutti, cioè un ragazzino non ce lo mette a giocare a Relic, è un po' più cupo. Questo veramente ci potete mettere, anche un ragazzino di 7-8 anni, fate divertire tutta la famiglia. Questo qui è il classico gioco che, per leggere il regolamento, ci vuole magari il suo tempino, perché c'ha un po' di cose da raccontare, non è complesso, però c'ha un po' di cose da tenere a mente. Però veramente da intavolare e da spiegare alla gente che ha il tavolo, 5 minuti. Quindi è il gioco perfetto, sempre in tutte le situazioni. Questo, visto che un ragazzo me ne ha parlato ultimamente, mi ha lasciato un commento, mi ha detto, eh, Battle Station, da quando ho visto il video sono impazzito, premetto subito, uno dice, ma sei matto, consigli per l'acquisti, e poi magari non si sa se si trova, perché questo è un gioco che dovrebbe essere stato finanziato su Kickstarter, però ho visto che c'era la possibilità anche di ordinarlo tramite il sito ufficiale della Gorilla Games, o me lo sono sognato. Comunque vi lascio tutti i link del caso. Questo ve l'ho riproposto già, vi ricordo, in passato, perché era uno di quei giochi che ci avevo fatto la Top 5, o la Top 10, qualcosa del genere. Comunque l'avevo messo nei miei giochi preferiti, perché ragazzi, è tutto. Ma non è uno scherzo quando dico tutto. Questo è un gioco, come volendo anche, ma forse anche di più, Gloomhaven, che ci potete vivere. Gloomhaven è un po' una specie di legacy, perché ci sono le stick da attaccare sulla mappa e una volta finita la storia la potete reiniziare da capo. Però bene o male sono sempre carte che vi danno eventi, che vi dicano come va avanti la narrazione, non lo puoi giocare 300.000 volte, per quanto, insomma, è particolarmente espanso l'open world. Questo, ragazzi, è un open universe. Cioè, questo lo potete comprare o con la scatola o con questo. Cioè, che è? Uno dice, l'Advanced Rulebook. Ma che è? Un gioco di ruolo, un gioco... No, è un manuale con 60 missioni aggiuntive, 30 specie nuove, 149 abilità e vi dà l'open source per crearvele. Cioè, gioco più questo. Ragazzi, vivete un universo. Voi siete a bordo di una nave spaziale che si muove in... cioè, voi vi muovete in due mappe, perché la mappa si muove nella mappa stellare, scusate, la nave nella mappa stellare e nell'universo. Quindi magari mentre voi giocate andate a velocità 1 e quella si sposta e poi magari combattete contro un'altra nave e vi avvicinate verso un campo di asteroidi, ok? E nel frattempo voi vi muovete a bordo della nave. Quindi magari c'è il pilota che dovrà andare nella cabina di pilotaggio, c'è il meccanico o l'ingegnere che dovrà riparare se qualcosa si rompe, c'è magari il soldato che dovrà respingere gli abbordaggi, fare abbordaggi o magari metterci i cannoni. Cioè, ognuno in questo gioco ha uno scopo. È una cosa disumana fra qui e qui ci sono tipo 200 missioni, roba da sentirsi male. È un gioco infinito e vi giuro fra tutti i board game che ho visto fino a oggi nessuno, nemmeno Gloomhaven, perché poi questo è un gioco di nicchia, non lo conosce quasi nessuno. Ragazzi, Gloomhaven è un capolavoro, non vi fate fregare che vi dice è troppo lungo, Gloomhaven è spettacolo. Questo va oltre, perché questo non è un gioco legacy che vi dice devi comunque mettere, creare la mappa. Questo è un gioco infinito che ci potete giocare per una vita intera. Ci sono gruppi di gioco che su Battle Station ci stanno giocando da 10 anni solo a questo ed è veramente bello. Potete fare qualsiasi cosa che venga in mente e potete creare una campagna da portare avanti fino a che inserete vecchi. Vi lascio il link in descrizione della Gorilla Games. Io penso che non si possa ordinare. Comunque avevo visto che da qualche parte era in vendita magari qualche late pledge o qualche copia che è rimasta. Ragazzi, se lo trovate comprateli insieme perché è veramente uno spettacolo assurdo. Battle Station ve l'ho consigliato perché ho visto che c'è stato tanto interesse nella mia community quando l'ho fatto vedere perché è un gioco proprio di Nikkei non lo conoscevo. Io lo conobbi digitando giochi spaziali board game volevo qualcosa mi uscì Space Alert mi uscì Nemesis poi vedi Battle Station seconda edizione che cacchio è ma chi lo conosce? Quindi è difficile uno che battega queste cose e non conoscerlo e l'ho preso subito. Vi ricordo che se volete acquistare Necromundo e tutti i giochi GV dalla gioco libreria Simola primo link in descrizione come vedete in sovraimpressione al miglior prezzo sul mercato e soprattutto quando l'andate ad acquistare usate il codice sconto Coridan7 per avere subito un discount appunto uno sconto del 7% mi raccomando e se non lo trovate in lista come sempre contattate con Rado con una mail privata e le dite arrivo dal canale di Coridan si può avere mentre per ordinare tutti i board game che vi ho fatto vedere da Get Your Fun secondo link in descrizione e in sovraimpressione anche qui al miglior prezzo sul mercato se non lo trovate contattateli per chiedere se è possibile averlo e vi ricordo le spese postali non si pagano mai su qualsiasi acquisto anche su 20 euro 15 euro non le pagate sono sempre gratuite e comprese nel prezzo e in più potete pagare il gioco in tre rate non volete pagare un gioco da 100 euro in una rata sola lo potete pagare in tre rate una al mese senza assolutivo di interesse e né di finanziamento quindi tagliate la rate in tre ne pagate una al mese e finisce lì ragazzi spero di avervi dato qualche bel consiglio ne farò altri video del genere mi dispiace soltanto l'ultimo battle station ve l'ho proposto ma perché è consiglio per l'acquisto non vuol dire soltanto andare sul sito e comprarlo perché come vi ho detto nel sito precedente anche noi stessi compriamo a volte da altra gente usato se lo trovate usato ragazzi fidatevi di Coridan se lo trovate usato compratelo prendetelo perché è un gioco non ce ne altri quello è unico non si può replicare davvero quello che ho trovato in quel gioco è pazzesco e poi a livello di un pochino di open source ci potete ambientare Alien ci potete ambientare Star Trek tra cui tra l'altro è già Star Trek ci potete ambientare Star Wars Mass Effect insomma ve lo potete cambiare come vi pare a voi ciao ragazzi fatemi sapere se vi è piaciuto il video e alla prossima a tutti i nostri spettatori